Sono otto anni che i residenti della lottizzazione Il Mulino di Campo Gialli, frazione di Terra Nuova Bracciolini, vivono in queste condizioni. Un cantiere abbandonato dal 2008 circonda una decina di abitazioni di recente costruzione e in questi lunghi anni qui è cresciuto di tutto. Erbe che sono diventate alberi, la via di accesso che è praticamente scomparse ed invasa da arbusti, rovi e reperti di cemento e di ferro del cantiere abbandonato. Un'area della bella frazione del comune di Terra Nuova che da tempo convive con l'insicurezza e il degrado, tra serpenti, roditori e fiumi di zanzare ed insetti che fuoriescono da due depositi dell'acqua, lasciati aperti dal giorno della chiusura del cantiere. Acqua ferma lì, da sempre. Cisterne dove spesso sono stati rinvenuti animali morti e che costituiscono un enorme pericolo per i bambini che qui in estate vengono a giocare. Una situazione insostenibile per i residenti che già nel 2013 avevano presentato un esposto al comune e alla ASL, firmato dai componenti di 5 o 6 famiglie del posto che denunciavano uno stato igienico-sanitario veramente insostenibile. Lo stesso comune di Terra Nuova, Bracciolini, in tutto questo periodo ha emesso ben due ordinanze intimando i responsabili del cantiere di pulire e di mettere in sicurezza tutta l'area. Fino ad ora però sempre disattese. La condizione dei residenti di Campogiali, come molti sapranno, non è unica. In molte zone del territorio valdarnese la crisi economica che ha colpito soprattutto l'edilizia ha lasciato segni simili un po' ovunque. Eppure, sostengono i cittadini di Campogiali, esiste una legge dello Stato italiano per la quale vige l'obbligo di tenere puliti ed in sicurezza i cantieri. Se il responsabile o il proprietario disattende per qualsiasi motivo questa norma, per fallimento o quant'altro, spetta ai comuni fare gli interventi, rivalendosi poi con i responsabili dell'area dismessa.